Bene, eccoci qua ragazzi, oggi puntata delirante ragazzi, questo pacco è enorme, ovviamente io l'ho già aperto a metà Mi è arrivato un pacco del fornitore enorme, gigantesco, veramente mastodontico, quindi adesso andiamo a tirar fuori tutto quello che mi è arrivato Alcune cose sono dei clienti che io ringrazio perché ci danno la possibilità di realizzare documentari come quello di Amedeo Tecchio Grande collezionista d'Italia con 15.000 pezzi di Star Wars, anzi grande collezionista d'Europa E ci saranno sempre più documentari perché state acquistando, quindi raga, state finanziando un grande progetto, figata Allora, iniziamo subito con, aspettate scusate perché ho veramente, non avete idea di cosa ho qua sotto, ho roba da spedire, roba già impacchettata Cioè sta diventando abbastanza complesso, ma io amo tutto questo Allora, iniziamo, c'è anche qualcosina per me in realtà, vediamo Per prima cosa, questo è mio, quindi lo apriamo subito e ci farò anche un video, se volete un video scrivetelo nei commenti ovviamente E mi sono comprato questa bellissima Best Kingdom dedicata a Stanley praticamente Ed è veramente, 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 veramente interessante E dentro, guardate, questa si merita una recensione assolutissimamente perché Oltre che Best Kingdom sono diventato ambassador e mi manderanno delle cosette Queste devo dire che sono belle per la toys photography, già le conosciamo Vi metto una lucetta qua davanti E molto belle, molto molto bella Questa è mia, che poi magari vendo dopo che ho fatto le foto su Vinted come usato Vi faccio vedere subito altro, mi sono, ecco, questa qua è una, questa dovete sapere la storia di questa Questo qua è praticamente un quadro di Batman che ho preso Perché mi piaceva, l'avevo visto in un negozio tempo fa e poi ho scoperto che il mio fornitore ce l'aveva a disposizione Eh, mica, ragazzi, questo è bello, questo è veramente, a me piaceva un botto Mi è piaciuto tantissimo e quindi me lo sono auto regalato E questo, boh, non credo di venderlo perché questo piace a me, questo è mio Oltre a queste due cose non ci sono altre cose mie Quindi tutto quello che vedrete da adesso in poi è per i clienti, raga, per i clienti Mettiamo a sinistra le cose che sboxo, a destra Ricordatevi di aiutare il canale, iscrivervi perché grazie al vostro supporto il canale cresce E saremo sempre di più Quindi iscrivetevi e attivate le notifiche per tutti i video Allora, andiamo a prendere Ok, cos'è questo? Ah, vediamo Ok, cosa mi è arrivato? No, li ho presi tutti uguali, ma veramente, sono così scemo? Niente, ho preso un kit da 6 di Pop 421 Sono 6 Pop di queste Un paio sono vendute e le altre, boh, dovrò venderle Perché hanno prese 6? Boh, non lo so, alle volte sto facendo delle cose che non mi rendo conto Vabbè, rimettiamole a posto Rimetto qua dentro la loro scatoletta Comunque è bello ragazzi avere le action figure da vendere È tutto molto interessante e divertente Vabbè, mettiamole qua, poi le metto a posto Se no vi faccio perdere tempo Poi abbiamo già di venduto Ho questi, questo, no, quello no Questi Eccoli Eccoci qua Altra scatola, McFarlane Toys Cosa mi è arrivato? Questo John Constantine Venduto, quindi è già ordinato È già in vendita Quindi io ringrazio, vi ringrazio sempre Perché acquistate Questo mi fanno fare la recensione Quindi lo vedrete Secondo me è molto bello Sottovalutato perché noi non siamo amanti di John Constantine qua in Italia Ma comunque una grande McFarlane Anche il box così, devo dire Molto interessante Questa parte è già lunedì Poi abbiamo questi Batman Che sono per dei clienti E voilà Pezzettini piccoli Hanno comprato pezzetti piccoli Ma ne ho altri Ne ho altri Ne ho presi altri Poi da rivendere anche su Una volta che li apro Su Vinted Perché questi non me li fanno aprire Li vogliono chiusi Per collezionarli Quindi giustamente Ragazzi È giusto Non è che posso aprire Tutto quanto Questi sono due Ce ne ho altri due là Sono uguali Sì A Smart Suite Poi c'è anche questo qua Molto bello E questo è interessante Ad esempio Questo anche lui Un bel Batman Di Simultiverse Questo è fighetto Bello Ragazzi Questi Batman di McFarlane Sono molto molto carini Poi passiamo a Batman Anche di questi ne ho un paio Perché uno l'ho venduto Perché poi quando mi dite Mi prendi quello Io lo compro Ma poi magari ne prendo uno in più Perché si sa mai nella vita Quindi Questo invece No Questo non è venduto Questo l'ho preso io Da piazzare Ad aprire Volevo fare la recensione Poi lo metteremo come usato E anche questo Prezzo abbastanza basso Questo è Shao Kahn Di Mortal Kombat 11 Bello Bello Questa sempre McFarlane Toys Mortal Kombat Tra l'altro sul nostro sito MamameloCoverty.com Ci sono anche le Storm Collectibles Di Mortal Kombat In preordine Ragazzi Bellissime Sono veramente Di piccoli capolavori Ragazzi Non ho più spazio Qui ho due Di cui Una venduta E l'altra Sempre di backup Perché io sono pazzo Sono fuori Con un balcone E voilà Allora Vediamo un po' Qui abbiamo Due Due di queste Due Swamp Thing Grosse Che sono identiche Ok Due Swamp Thing Grosse Una che è venduta E l'altra Da vendere Quindi Ragazzi La troverete su Vinted Perché faccio la recensione Anche questa Non è stata Piazzata Cioè nel senso Una è stata piazzata All'altra no E queste si trovano Veramente A poco Vedrete anche su Vinted Quanto metto Quella aperta Perché Ragazzi Vedrete Vedrete Questa l'ho comprata Per nessuno Per me Per vederla Per rivenderla Poi Aprire E fare una recensione Perché voglio farvi vedere Queste Mega Fig Di Spawn Che non sono tanto famose Da noi Ma Comunque Ragazzi Secondo me Meritano un occhio Di attenzione Perché il costo Non è nemmeno alto Le troverete Ovviamente Su Vinted Appena ci faccio La recensione O se volete Delle informazioni Mi scrivete qua sotto Nei commenti Questa dove la metto Qua Oddio Ah ragazzi Tra l'altro Tra due giorni Ma arriva un altro Pacco grosso Così Con i preordini Che sono stati ordinati Qualche mese fa Anche dei Batman E un po' di roba Quindi Ah ok Poi Cosa abbiamo Vediamo un po' Best Kingdom Mandalorian Ho fatto delle foto Le avrete viste Sul profilo Grazie a queste foto Tra l'altro Sono diventato Ambassador Best Kingdom E quando le ho fatte Mi hanno scritto Mi hanno detto Ma me ne compri un altro Me ne dai uno Me ne vendi uno Allora Volevo vendere il mio Però mi piace talmente tanto E ce n'era ancora uno Dal fornitore E allora Io l'ho comprato E glielo ho venduto A Gianluca Al ragazzo Che poi il fotografo Di mamma me lo compri In realtà Ecco qua Guardate Bellissimo Mandaloriano Questo ragazzi Toys Photography È pazzesco Anche questo Aveva un prezzo In sconto Non ce ne sono più E ho comprato E ho comprato anche Il Mandaloriano Un uovo Mi dovrebbe arrivare Nella prossima Spedizione Oddio Poi Cosa abbiamo Vediamo un po' Ah Poi Questo venduto Piccola statua Della Hero Collector Bo Punto com Non so di che brand sia Guardate Slimer Dentro Dentro Il Cioè sul tavolo Bella Questa è veramente carina Anche questa parte Già lunedì Quindi figaggine Assoluta Poi Abbiamo Questo L'ho comprato a caso Ragazzi vi dico la verità Questo L'ho comprato realmente a caso Perché parlavo l'altro giorno Di Hercules Con Degli amici E Ah no con Vanessa Parlavo di Creativa Ne parlavamo di Hercules E di Xena E allora alla fine Ho trovato sto pop Lì dal fornitore Ho detto Sai che c'è Ok Direi che oggi come Unboxing È finito Poi ce ne sarà un altro Subito dopo Perché ne arriva Un altro pacco gigante Io vi ringrazio Per essere stati con me Se vi interessa qualcosa Scrivetemi nei commenti Anche se volete vedere L'unboxing di qualcosa Perché inizierò a levare Degli unboxing Di alcune cose Perché il canale Voglio che vada In una direzione Più di qualità Perché anche il documentario Di Star Wars Ha riscosso molto successo Sono stato ribattuto Su varie testate nerd Quindi raga Quello Quella è la strada mia Che devo fare Il primo canale in Italia Che racconta Storie di collezionisti Quindi Cerchiamo di portare avanti Quello Gli unboxing Comunque se volete seguirci TikTok e Instagram Anche perché ci saranno Magari degli unboxing Di cose più piccole Shorts Quindi entro un minuto Però tipo le megafighe Così ve le faccio vedere Sul canale Anche Le best kingdom Visto che sono ambassador Devo Quelle Devo far vedere Perché mi arriveranno Anche delle best kingdom Che Devo farvi vedere Proprio dei prototipi Quindi Non so quando arriveranno Comunque Cosmic me le manderà Prima o poi Grazie a tutti Per essere stati con me È stato un vero piacere Onore Ci vediamo alla prossima puntata Ciao